È una struttura gonfiabile, facilmente igienizzabile e dal costo limitato. Debutta nel cortile della casa di riposo di Bovolone, la prima stanza degli abbracci in provincia di Verona. L'idea realizzata a Bolzano consente agli anziani ospiti autosufficienti di poter incontrare in sicurezza i propri cari. Un telo trasparente e due manicotti in materiale più morbido consentono il contatto con la persona cara senza il rischio di trasmettere il coronavirus. È una risposta che credo sia dovuta da parte dell'amministrazione a persone che hanno dato la loro vita per una comunità che adesso questa comunità deve comunque far passare delle giornate serene in questi momenti particolari. Credo che la casa di riposo, i cittadini, l'amministrazione comunale abbiano fatto una cosa che effettivamente dà in questi momenti una risposta importante. L'idea era partita dalla locale Unitalsi che aveva lanciato una campagna di raccolta fondi sui social. In realtà il Comune, con i fondi per gli interventi Covid, ha sostenuto l'intera spesa. Così gli oltre 5.000 euro versati da cittadini e associazioni serviranno alla manutenzione della struttura, all'igienizzazione e alle altre necessità della casa di riposo. La San Biagio di Bovolone, che ospita un'ottantina di anziani, si trova da ieri a dover combattere il Covid in prima linea? Adesso come adesso abbiamo purtroppo dai 19 ai 20 positivi. Lunedì facciamo nuovamente i tamponi per tutti quanti per accettare se effettivamente sono tutti, perché molti sono nel dubbio, però la posizione è questa attualmente 4 dipendenti e 19 anziani.